Via Canova, pieno centro di Possagno, un tratto di strada tra la gipsoteca e il tempio del grande artista neoclassico di cui nel 2022 ricorrono i 200 anni dalla morte. Guardate in che condizioni versa. Tanto che sono arrivate alla nostra redazione diverse segnalazioni di residenti sdegnati dal degrado dell'arteria nel cuore del paese che diede i Natali allo scultore. Ma niente paura perché il sindaco Valerio Favero ci ha illustrato i lavori che a breve andranno a riqualificare tutta l'area. Primo step i sottoservizi a seguire. Noi abbiamo già ad oggi un progetto definitivo per la ricostituzione di tutto il viale e soprattutto anche per la riqualificazione di quello che è il via Letto Pedonale che sarà rifatto tutto in Porfido con una zona in Porfido anche della strada principale proprio in prossimità del centro, in prossimità del museo per far capire a chi arriva a Possagno che quello è il centro, quella è la parte nobile del nostro comune. Tempi e costi. Allora l'intervento a un costo di circa 800 mila euro totalmente finanziato dal nostro comune, la parte di illuminazione pubblica la Faracontarina, i sottoservizi relativi alle fognature alle acque meteoriche ATS, il resto lo mette il comune proprio perché vogliamo arrivare per il 2022, un anno importantissimo per noi, 200 anni dalla morte di Antonio Canova, pronti con un viale in ordine che dia un'immagine del nostro comune turistico. Per la primavera del prossimo anno noi dovremo avere tutto in ordine.